Il mito sempre vivo dei nomadi che da 47 anni calca i palchi di tutta Italia e unisce generazioni di padre in figlio. Per Beppe Carletti, Danilo Sacco, Cico Falzone, Daniele Campani, Massimo Vecchie, Sergio Reggioli in promozione con il nuovo CD Allo Specchio. Una tappa suggestiva del tour alle cave di marmo di Botticino in occasione della rassegna cave musica organizzato da Comune Consorzio Produttivo del Marmo Classico di Botticino. Un migliaio nel prato del bacino marmifero in località Menga ad accogliere i nomadi, tanti giovanissimi e i fan di sempre pronti a cantare a squarciagole successi più recenti e quelli che hanno segnato la storia del gruppo più longevo d'Italia, dalla canzone del bimbo nel vento a Io voglio vivere a Mediterraneo. Quattro serate di successo per cave musica aperte con Enrico Zanni e Francesco Renga e da Teo Teocoli è chiusa dal concerto di domenica di Elio e le storie tese per i nomadi amatissimi anche nel Bresciano due ore abbondanti di musica.